Buongiorno, sono Marco Astore di Bigilog e oggi ho il piacere di presentarvi i nostri ultimi carrelli kitting per un'azienda del settore tessile. In particolare il nostro cliente richiedeva delle soluzioni che creassero all'interno del proprio stabilimento un flusso di lavoro più efficace e soprattutto sostenibile. Per avere delle soluzioni che migliorassero la presentazione e la visualizzazione dei componenti per gli operatori. Ecco che abbiamo quindi deciso di sviluppare una soluzione in acciaio inox e giunti SD proprio perché il carrello verrà utilizzato e movimentato in ambienti umidi e quindi la soluzione sarà resistente all'acqua e altri agenti atmosferici senza incorrere nell'usura e riducendo i costi di manutenzione. La soluzione poggia su quattro ruote pivotanti di cui due dotate di sistema frenante. Inoltre la soluzione è provvista di tre piani in nobilitato grigio ideali per la movimentazione del materiale del nostro cliente. Sul lato frontale sono presenti 12 ganci che verranno utilizzati per appendere la componentistica necessaria per gli operatori facilitando le operazioni di prelievo ma soprattutto l'individuazione. Infatti essi permettono di organizzare in modo ottimale tutta la componentistica necessaria per la fase ad esempio di assemblaggio. Il piano centrale invece è estraibile rendendo la soluzione più sicura ed ergonomica per le operazioni di prelievo manuale. Rendendo quindi più facile l'accesso ai materiali e soprattutto gli operatori possono provvedere in autonomia all'apertura e alla chiusura dei ripiani. Infine il carrello è provvisto di un pannello forato porta attrezzature. La disposizione flessibile dei fori consente di posizionare diversi inserti in qualsiasi posizione della lavagna. Quindi se state cercando delle soluzioni per la vostra movimentazione interna sulle linee produttive e linee logistiche visita il nostro sito www.bglog.it troverai delle soluzioni modulari e su misura come postazioni di lavoro, flow rack e carrelli. BG Log, be clever and work better with Smart Tube System. BG Log, be clever and work better with Smart Tube System. BG Log, be clever and work better with Smart Tube System. Grazie a tutti